Una delle cose che sta spaventando di più i proprietari di immobili o chi sta acquistando un immobile è la direttiva Case Green dell'Unione Europea. Cerchiamo di capire meglio come funziona e come possiamo tutelarci da questi cambiamenti. È una cosa che in pochi sanno e di cui si parla effettivamente poco, ma le abitazioni sono uno dei fattori principali di inquinamento atmosferico, sia per quanto riguarda le polveri sottili sia per quanto riguarda l'emissione di CO2. Per questo l'Unione Europea e tutti gli stati che ne fanno parte da tempo sta cercando di sensibilizzare la popolazione e di spingerla ad adeguare il patrimonio immobiliare e a renderlo più efficiente. A questo serve per esempio anche l'APE che negli ultimi anni è diventato obbligatorio per comprare o vendere e affittare un immobile. L'APE che è l'attestato di prestazione energetica è una certificazione che ci dà un'idea di quanto quell'immobile consuma a livello energetico e di quanto emette nell'atmosfera. Sull'APE sono infatti indicate le famose classi energetiche A, B, C, D e fino alla G che è la peggiore classe energetica che possiamo trovare in un immobile. E oltre là ci sono la A, 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 P, P, eccetera, addirittura edifici NZEB, Nearly Zero Emission Buildings, cioè edifici quasi ad emissioni zero e gli edifici completamente ad emissioni zero. Ora che abbiamo capito un po' il contesto generale possiamo andare ad approfondire che cosa dice la direttiva europea Case Green. Tutto parte dall'obiettivo dell'Unione Europea che è arrivare a zero emissioni entro il 2050. Per fare questo ha fatto una scaletta, degli step, per raggiungere questo obiettivo. E la direttiva Case Green si inserisce proprio in questo progetto di lungo termine. Dal 2028 tutti i nuovi edifici dovranno essere ad emissioni zero, quindi neanche NZEB, edifici completamente che non emettono anidride carbonica, polveri sottili nell'atmosfera. Gli edifici pubblici, quindi di proprietà pubblica o utilizzati da enti pubblici, comunque sempre nuovi, quindi costruiti di nuova costruzione, dovranno rispettare questo requisito dal 2026, quindi due anni prima rispetto al settore privato. Lo sfruttamento dell'energia solare diventerà obbligatorio, ma solo se funzionalmente ed economicamente efficace. Verranno unificate le classi energetiche di tutti gli edifici nell'Unione Europea, vuol dire che verrà fatta una scala univoca utilizzata in tutti gli stati europei, perché adesso magari quello che è A in Italia non è A in Francia o in Germania, e quindi bisogna avere un criterio di paragone unico nell'Unione Europea per applicare queste leggi. E l'ultimo punto, che è quello che sta spaventando di più i proprietari degli immobili, è che entro il 2030 gli edifici esistenti, già esistenti quindi anche i vecchi, dovranno essere in classe E, mentre entro il 2033 in classe energetica D. Ora, questo può fare sicuramente paura, perché se abbiamo un edificio che è in classe energetica F o G, ci dobbiamo preoccupare di adeguarlo. È stata però smentita la voce per cui non si potrebbe affittare o vendere un immobile che non abbia queste classi energetiche, quindi ricordo la E nel 2030 e la D nel 2033, perché in realtà questo obbligo ci sarebbe solamente per quegli immobili che sono oggetto di una importante ristrutturazione, che dovranno quindi adeguarsi al nuovo limite di classe energetica. Se non viene fatta nessuna ristrutturazione, fino a quando non viene fatta, basterà avere l'APE, quindi un certificato che attesta lo stato di fatto. Quindi anche se è una classe energetica F o G, non ci sarà l'impossibilità di vendere o di affittare. Oltre a questo ci saranno tantissime eccezioni, perché poi la direttiva europea deve essere recepita dagli stati membri che la potranno adeguare al loro territorio, alla situazione economica, alle risorse che hanno a disposizione e al tipo di edifici. Pensate per esempio in Italia, dove il patrimonio immobiliare è molto antico e ci sono tanti immobili di altissimo valore artistico, culturale e storico, e spesso non si possono fare degli interventi per adeguare la classe energetica. Pensate per esempio ad un edificio con una bellissima facciata Liberty, protetta dalle belle arti e dalla paesaggistica. Com'è possibile pensare di fare un cappotto, per esempio, su quell'edificio? Non è pensabile. O come potrebbe non essere pensabile fare altri tipi di interventi che hanno lo scopo di efficientare il consumo e l'emissione di quell'edificio? Quindi verranno comunque previste delle eccezioni in base al caso specifico, in base alla città, al territorio e alle risorse che ci sono a disposizione in quel momento. Tra l'altro, a marzo, pochissimo tempo fa, è stata proprio discussa questa direttiva all'interno del Parlamento europeo ed è stata approvata. Quindi adesso dovrà essere messa in esecuzione. Gli stati membri dovranno votarla e integrarla nel loro regolamento. Non si sa ancora poi quale risorse verranno messe a disposizione della popolazione, delle persone, per adeguare la classe energetica. Se verranno messe a disposizione dei finanziamenti agevolati, magari, o dei fondi per adeguare, dal punto di vista energetico e ambientale, la propria abitazione. Quindi anche questa è una cosa che dovremo scoprire nei prossimi anni. La cosa importante è che però non dobbiamo allarmarci. Quindi anche se sei proprietario di un immobile o di un edificio, di una classe energetica un po' scarsa, non ti allarmare perché comunque si parla di una prospettiva di anni. Il 2030 è fra 7 anni, quindi ci sono 7 anni di tempo per adeguarsi alla classe energetica E e 10 anni di tempo alla classe energetica D, quindi il tempo c'è, e tante volte l'adeguamento è anche abbastanza semplice. Spesso magari basta cambiare la caldaia o cambiare gli infissi, cosa che magari dopo un tot di anni comunque si fa. Cioè la caldaia ogni tanto, ogni 15-20 anni magari si cambia. Basta mettere la caldaia che ci consentirà di accedere a quella classe energetica. E poi, lo ripeto, qualora non siano previsti interventi di ristrutturazione importanti, non ci sarà l'obbligo di adeguarsi a questa classe energetica, perché sarebbe impossibile pensarlo. Pensiamo per esempio ad una famiglia, ad un proprietario che non ha le risorse economiche per ristrutturare il proprio immobile e portarlo alla classe energetica richiesta. Come potrebbe farlo? È impossibile obbligarlo. Quindi non ci sarà questo obbligo qua, basterà presentare una dichiarazione dello stato attuale delle cose, l'APE, per poter vendere oppure affittare. Sono interessato a sapere anche cosa ne pensi, quindi fammelo sapere con un commento. Io credo che al momento non ci saranno forti ripercussioni sul mercato immobiliare. Quindi calma e gesso e vediamo cosa succederà nei prossimi anni. Intanto io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!